Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi affrontiamo un argomento fondamentale per mantenere DaVinci Resolve sempre fluido e reattivo, la pulizia e la gestione della cache. Se noti rallentamenti, occupazione eccessiva di spazio su disco o problemi con il playback, la cache potrebbe esserne la causa. Ti mostrerò come individuarla, gestirla e cancellarla nel modo corretto. Bentornati sul canale, sono Giancarlo. Ho avuto spesso delle domande in merito a rallentamenti e problemi nel playback in DaVinci o allo spazio sul proprio computer o sui dischi esterni che era sempre più esiguo. Non tutti sanno che la cache andrebbe eliminata quando abbiamo finito di lavorare sui nostri progetti. Cos'è la cache in DaVinci Resolve? Ciò che DaVinci Resolve chiama caching è talvolta indicato da altre applicazioni come rendering. Entrambi i termini si riferiscono alla creazione in background di nuovi file multimediali con tutti gli effetti incorporati che DaVinci Resolve riproduce in tempo reale al posto dei file sorgente originale contenente effetti che richiedono un elevato utilizzo del processore. Questo permette una riproduzione fluida senza il rischio di perdita di fotogrammi e velocizza l'anteprima degli effetti più pesanti in fase di editing o di color grading. Tuttavia se non gestiti i file generati in cache possono occupare molto spazio e rallentare il sistema. Parliamo di centinaia di file giga e giga di roba. Vediamo nella timeline ruler nella edit page la clip di cui la cache è generata sormontata da una linea blu. Le clip in attesa di generazione cache sono in rosso mentre nella color page l'indicazione avviene a livello di nodo. Ovviamente quando scegliamo la generazione della cache e tra poco vi mostrerò dove si sceglie. Dove si trova la cache? Se non hai mai modificato la destinazione dei file della cache per vedere modificare la posizione della cache apri DaVinci Resolve e vai su Preferences. Seleziona la scheda Media Storage. Qui troverai la cartella in cui vengono salvati i file di cache. Questa è la posizione di default e possono essere presenti più posizioni utilizzate. Io personalmente uso una posizione della cache che viene indicata progetto per progetto perché capita che debba lavorare su dischi diversi in base ai progetti che seguo e la cache può risiedere su dischi diversi a seconda appunto del progetto. Se avete definito una posizione a livello di progetto per vederla selezionare l'ingranaggio in basso a destra quello di Project Settings e selezionare la sezione Master Settings e all'interno di questa Working Folders e qui possiamo selezionare la posizione ed eventuali dischi esterni su cui viene salvata la cache e i file proxy. Se volete selezionare una nuova posizione per la cache folder una volta premuto Browse navigate fino alla cartella in cui volete risieda la cache e cliccate su Open. Se apriamo la cartella che contiene la cache cache clip troviamo al suo interno varie cartelle corrispondenti ai vari progetti per cui è stata generata la cache. Nel mio caso è ora di fare pulizia. Ho alcuni progetti la cui sola cache contiene più di 193.000 elementi per un peso di 369 giga. Capite bene che dopo qualche progetto si fa presto a riempire i nostri dischi di memoria. Per capire a quale progetto in particolare corrisponda una di queste cartelle con titoli alfanumerici non parlanti basta aprire le cartelle principali e aprire il file info.txt. Da qui si può leggere il nome del progetto. Il modo in cui la cache viene generata e attivata lo si stabilisce aprendo Project Settings, Master Settings. Nel riquadro di Optimized Media e Render Cache possiamo definire il formato del file. Io lascio ProRes 422HD il migliore per le mie esigenze. Attenzione che se si vuole fare grading utilizzando i media in cache, soprattutto se si lavora in HDR, si dovrebbe utilizzare il formato ProRes 4444HQ o DNX HR444. Gli stessi da utilizzare nel caso si volessero mantenere eventuali alpha channel. Sotto possiamo decidere spuntando e inserendo un valore in Enable Background Caching After 5 Seconds, dopo quanti secondi di inattività vogliamo che la cache cominci a generare i file in background. Come selezionare la modalità di cache? DaVinci Resolve offre due principali modalità per la gestione della cache, Smart e User Cache. Smart Cache, questa modalità permette a Resolve di decidere automaticamente quale clip devono essere renderizzate nella cache per migliorare le prestazioni. È utile per chi vuole un'ottimizzazione automatica senza dover intervenire manualmente. La selezioni e non ci pensi più. User Cache non memorizza automaticamente invece nella cache le clip nei formati che richiedono un uso intensivo del processore. In questa modalità l'utente ha il pieno controllo e deve selezionare manualmente fleggandole quali clip devono essere salvate nella cache. È una buona opzione da scegliere quando la tua workstation è in grado di riprodurre tutti i formati multimediali che stai utilizzando in tempo reale. Tuttavia il pannello Master Setting delle impostazioni di progetto ha tre opzioni che puoi abilitare per memorizzare automaticamente nella cache transizioni composite ed effetti fusion quando sei in modalità user cache. Queste opzioni si trovano nel gruppo media ottimizzati e cache rendering. Di queste impostazioni soltanto la memorizzazione automatica nella cache degli effetti fusion è attivata per impostazione predefinita. Come selezioniamo la modalità? Per selezionare la modalità desiderata mentre siamo in un progetto vai su playback nel menu in alto. Seleziona render cache. Scegli tra smart o user a seconda delle tue esigenze. Di default è impostata su nessuna. Io imposto normalmente smart. A volte può essere comodo lasciarla disabilitata finché non abbiamo portato in timeline tutti i nostri file fatti cut. In questo modo non stresseremo il computer per la generazione dei file. Quando però vogliamo cominciare a vedere l'effetto di una transizione, degli effetti applicati, color e quant'altro è allora il momento è arrivato sicuramente di attivarla. Smart cache e user cache renderizzano e memorizzano automaticamente nella cache le clip, tra cui semplici clip video, compound clip, fusion clip e timeline nidificate a cui sono applicati effetti e color grading che richiedono un lavoro intensivo del processore. Ovviamente se noi andiamo a modificare un effetto, un titolo, una transizione di una clip, la cache dovrà essere generata nuovamente per ogni singola modifica. Come cancellare la cache? Esistono diversi modi. Sostanzialmente sono tre per pulire la cache. Metodo 1. Eliminazione dalla timeline. Una volta finito di lavorare ad un progetto possiamo, stando nel progetto, eliminarla. Vai su playback nel menu in alto. Seleziona delete render cache, tra cui puoi scegliere tra all, tutta la cache, unused, solo la cache non più necessaria, select clips, solo le clip selezionate. Metodo 2. Eliminazione manuale dalla cartella. Poco ortodosso ma molto utilizzato. Se vogliamo fare piazza pulita in un momento di tutta la cache senza perdere tempo e cancellare le cartelle di cache dai singoli progetti una per una, apri la cartella della cache individuata prima e cancella i file manualmente per liberare spazio. Se volessimo cancellare tutto tranne un progetto su cui ancora lavoriamo, possiamo individuarlo come indicato prima andando ad aprire il file info.txt e cancelliamo tutte le altre cartelle ad eccezione di quella che contiene il progetto in lavorazione. Metodo 3. Eliminazione tramite cache manager. Esiste poi un metodo più avanzato, rigoroso e preferibile di gestire e cancellare la cache ed è quella che fa uso del cache manager, accessibile tramite playback Manage Render Cache. Si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile selezionare i media renderizzati da ogni libreria accessibile al sistema in uso. In alto avremo in evidenza il progetto aperto al momento. Le informazioni indicano la posizione, il nome della libreria, il progetto e lo spazio occupato dalla cache renderizzata. Possiamo selezionare posizioni diverse anche su cloud e differenti librerie di progetti. Possiamo selezionare una render cache di uno o più progetti e con un semplice tasto cancellarle. In questo modo faremo una pulizia mirata, precisa, gestita da DaVinci, senza pericolo di cancellare inadvertitamente cache dei progetti ancora in lavorazione. Perché cancellare la cache dopo aver finito un progetto? Una volta terminato un progetto, cancellare la cache è una buona pratica per diversi motivi. Libera spazio su disco. I file di cache possono occupare diversi gigabyte, specialmente in progetti lunghi o con molti effetti. Mantiene il sistema ordinato. Eliminare i file temporanei riduce il rischio di confusione tra progetti. Evita conflitti. Se lavori con più versioni dello stesso progetto, vecchi file di cache potrebbero interferire con le nuove modifiche. Migliora le prestazioni. Rimuovendo file non più necessari, DaVinci Resolve può funzionare in modo più efficiente. DaVinci Resolve può ricreare la cache dopo averla cancellata? Sì, DaVinci Resolve può ricreare automaticamente la cache dopo la cancellazione, se necessario. Se la modalità Smart Cache è attivata, il software genererà nuovamente i file di cache per le clip che ne hanno bisogno. Se utilizzi la modalità User Cache, come abbiamo visto, dovrai indicare manualmente le clip da renderizzare nuovamente. Niente paura quindi se la cancelliamo per errore. Dopo aver eliminato la cache, DaVinci Resolve potrebbe impiegare un po' di tempo per ricreare i file. Quindi il playback potrebbe risultare meno fluido fino a quando il rendering della cache non sarà completato. Se vuoi forzare la rigenerazione della cache, seleziona la clip interessata nella timeline. Clicca con il tasto destro e scegli Render Cache Color Output oppure Render Cache Fusion Output. Aspetta che DaVinci Resolve ricrei i file di cache per migliorare il playback. Dove conservare la cache e i file video per un workflow ottimale? La posizione della cache e dei file video è fondamentale per ottenere il massimo dalle prestazioni di DaVinci Resolve. Cache sul computer o su un disco esterno? Se il computer ha un SSD veloce, si può conservare la cache direttamente sul computer per massimizzare la velocità di lettura e scrittura. Se il computer ha uno spazio limitato, si può utilizzare un SSD esterno ad alta velocità, con connessione preferibilmente Thunderbolt o USB 3.2. Dove conservare i file video di origine? È consigliabile tenere i file video su un disco esterno veloce, preferibilmente un SSD, ad alte prestazioni per evitare di sovraccaricare il disco interno del computer. Gli hard disk drive esterni possono essere utilizzati solo per archiviazione a lungo termine, ma non sono consigliati per il montaggio diretto. Evitate se potete. In un flusso di lavoro ideale, il progetto viene salvato sul disco interno del computer con regolare backup. I file video originali vengono conservati su un SSD esterno veloce. La cache viene archiviata su un altro SSD esterno o sul disco principale del computer se sufficientemente veloce e dotato di spazio. Questa configurazione permette di distribuire il carico di lettura e scrittura, evitando colli di bottiglia e migliorando la reattività del software. Ecco fatto! Ora sai come gestire e pulire la cache in DaVinci Resolve per ottimizzare le prestazioni del tuo sistema e organizzare al meglio il tuo workflow. Se questo video ti è stato utile lascia un like e iscriviti per non perdere altri tutorial su DaVinci Resolve e il videomaking. Alla prossima, ciao! 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 Ciao!